Prima giornata di campionato che inizia con questo risultato che potrebbe far preoccupare chi non ha visto la partita, ma non crediamo che sia così per oddio. Stiamo calmi. Quando dopo cinque minuti rimane in dieci è difficile, è molto difficile. Sicuramente il risultato potrebbe essere meno rotondo se avessimo evitato qualche errore di troppo che abbiamo fatto, però al di là di quello si è scombussolato tutto dalla nostra partita, la preparazione della nostra partita, agli avversari, al cambio di modulo obbligatorio fatto. Quando tu lavori da due mesi su un modulo e dopo cinque minuti non lo puoi fare più, inevitabilmente poi ti condiziona tutto, però in merito all'Ivorno facciamo finta che la partita inizia da venerdì. No, non sono preoccupato perché io ho fatto il calciatore alla prima partita di campionato, tutte le squadre, non dico il Pescara, tutte le squadre non possono essere al 100% e parlo di condizione fisica. Quando si rimane in dieci c'è solo una cosa da fare, correre più degli altri. In queste condizioni dove tu non sei al 100% con un caldo così abbiamo trovato anche una squadra che ha fatto un buon processo a parla e ci faceva correre per il campo, diventa veramente difficile. Cosa non le è piaciuto a parte questi episodi iniziali che certo ha condizionato la partita? Qualche errore dei singoli in fase difensiva? Sì, qualcosa sì. Sicuramente si potevano evitare un paio di gol, prendere gol sul palmi inattiva non mi piace per niente, miglioreremo sicuramente. Qualche palla libera dovevamo scappare prima come in occasione del quarto gol credo. Grazie. Grazie. Grazie.